Musica Ciao gentaglia, Breaking Italy del venerdì, che è diversissimo da quello degli altri giorni, giusto? Non esattamente, in realtà è più o meno la stessa cosa, ma abbiamo deciso, c'è un tacito accordo sul fatto che il venerdì sia diverso. Magari non sarà lungo come gli altri, magari non sarà carico come gli altri, però sa il fatto suo, fa il suo dovere, che è quello che dico a tutte le mie ragazze da circa 15 anni. E la prima notizia di oggi non è una notizia, è semplicemente la presentazione di un trailer di qualcosa che sarà probabilmente molto bello, almeno a giudicare da quello che è stato il gioco originale, sto parlando di The Last of Us, che è assolutamente il gioco più bello del 2013 e uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato. Non lo comparerei nemmeno a un videogioco, lo comparerei a un libro o a un film. Conseguentemente consiglio a tutti quanti di giocarci, sta anche per uscire il DLC e il trailer del DLC è quello del quale sto parlando. Vi sto mostrando alcune immagini perché non voglio avere problemi di copyright con Sony, non voglio che arrivino da me e mi dicano odiamo il fatto che pubblicizzi i nostri contenuti gratuitamente, danneggia il nostro business! Quindi eccovi l'immagine di un cagnolino che si addormenta. Guardate quanto è carino, fingete che sia il trailer del DLC che vi lascio in descrizione, potete andare a dargli un'occhiata. Breaking Italy del venerdì. Comunque prima di abbandonare il campo di tecnologia, è per inciso che non c'entra niente in effetti, ma se vedete dei cambi di luce è perché sto usando per metà la luce naturale. Stiamo spostando le luci perché stiamo facendo delle cose misteriose e misteriose. Ad esempio, a cosa servirà questo tavolo? Chissà, chissà. Comunque gentaglia volevo ringraziare tutti quelli di voi e stimolare tutti gli altri. Se aveste un account di Twitter e se non lo aveste potete farvelo volendo. E andare a votare per me agli Shory Awards, che sono delle sorte di awards per i social media. Non so bene a cosa servono, non si vince niente tendenzialmente. E ho appreso della loro esistenza ieri quando qualcuno di voi mi ha nominato sotto la categoria videoblogger. Conseguentemente perché non farmi vincere la categoria videoblogger? Il primo per ora ha un migliaio di voti. Credo che la gentaglia possa facilmente battere quel numero. Quindi se volete darmi una mano in questa assolutamente inutile battaglia, link in descrizione. Parlando di altre notizie che non sono notizie, perché di nuovo è venerdì, Justin Bieber è stato arrestato. E nonostante questo il signor Frega Cazzi va spesso a comprare il pane sotto casa e lo riconoscono sempre e non lo fanno pagare. Ma apparentemente non tutta la gentaglia è così disinteressata alla storia perché alcuni di voi mi hanno chiesto di parlarne. La maggior parte in realtà credo per riderne e alcuni, perché sono dispiaciuti che la loro pop star preferita, o una delle loro pop star preferite immagino, sia stata arrestata. Io non ho delle battute da fare su Justin Bieber. Quelli che state guardando sono i mugshot, ovvero le foto che ti fanno una volta che viene arrestato, e le ragioni per l'arresto, che peraltro è durato pochissime ore perché, hey, basta pagare la cauzione e sei fuori, tendenzialmente, che è più o meno quello che la faccia di Justin Bieber sembra dire durante la foto. O se non sta dicendo quello, sta dicendo qualcosa come, sono assolutamente sicuro che me la caverò alla grande, anche se effettivamente sono stato arrestato per cose abbastanza gravi, ovvero guida in stato di ebrezza, guida senza patente e soprattutto essere stato fermato mentre faceva queste due cose all'interno di una gara clandestina. Ah, e ovviamente anche un po' di resistenza all'arresto, perché sennò non sei una vera celebrità americana. O canadese, perché in questo caso, canadese. E quindi i punti sono due. Uno, yeah, The Fast and Furious in real life, che però non è così Fast and Furious quando hai poi problemi con la legge e stai facendo delle gare ubriaco alla guida, si può essere così stupidi. Mi dispiace se siete dei fan di Justin Bieber, ma è una grande cagata. Ma, d'altra parte, io sono molto dispiaciuto per il ragazzo, perché, a prescindere da tutte le critiche che gli sono piovute addosso, perché il mondo odia chi ha successo, praticamente la sua ormai è la solita storia del ragazzo che diventa famoso in giovane età e poi diventa un cretino. Proprio per il fatto di essere diventato famoso in giovane età. Parlando invece di cose completamente diverse, questa donna, che era già finita su Breaking Italy, e che ora ci ritorna per la stessa ragione, raddoppiata. La donna si chiama Gigi Chao, che apparentemente a Hong Kong è un nome da donna, 33enne, ed è figlia di Cecile Chao, che sì, evidentemente a Hong Kong è un nome da uomo, 77enne miliardario di Hong Kong, che è ossessionato dall'idea che la figlia non gli darà un'erede. Infatti la figlia apparentemente è lesbica, e proprio per il fatto di essere lesbica è sposata con una donna da due anni. Ma il padre, di visioni un po' conservatrici, non si rassegna e aveva già proposto a chiunque fosse riuscito a convincere la bella Gigi a cambiare il proprio orientamento sessuale. E il premio era di 50 milioni, soldi che nessuno ha mai visto, perché nessun uomo dei 20.000 che ci avrebbero provato sono riusciti effettivamente a far cambiare il orientamento sessuale alla donna. E quindi, oh mio Dio, è proprio stranissimo, nessuno di 20.000 uomini. Sarà forse che l'orientamento sessuale non è una cosa che si decide? Il signor Cecil non la pensa così. Infatti ora offre 100 milioni a chiunque riesca in questo intento. Conseguentemente, gentaglia, se vi voleste proporre, fatemi sapere come va. Link in descrizione e tutto il resto. E credo che la cosa più bella di questa notizia sia stato andare a cercare le varie fonti e leggere i vari commenti che le persone lasciano dicendo Lasciatela 10 minuti con me. Sì, Billy, perché tu c'hai il cazzo magico di tutti gli uomini sulla Terra. Ci sono 7 miliardi di persone nel mondo. Ecco, prendiamo tutte queste persone, prendiamo tutti gli uomini, di tutti questi uomini proprio tu che hai scritto quel commento, c'hai la verga magica che spara arcobaleni e converte le persone. Quando lo fa, grida Parlando invece velocemente di cose più serie, gentaglia, in Ucraina la situazione continua a peggiorare. E queste giornate sono così concitate che inizia ad essere difficile capire quali siano effettivamente le notizie più affidabili e quelle meno affidabili. Ma le immagini che arrivano, quelle parlano da sole e mostrano Kiev, la capitale dell'Ucraina, trasformata in una sorta di campo di battaglia. Ci sono moltissimi feriti, dammo le parti, i morti continuerebbero ad aumentare. Non si sa bene effettivamente quanti siano i morti perché come al solito le autorità da una parte minimizzano di brutto ma i manifestanti dall'altra lamentano cose spaventose come ad esempio la polizia che entra negli ospedali, rapisce i manifestanti feriti che sono sottoposti a cure e li fa sparire. Ed è quello che sarebbe successo a uno dei leader della manifestazione che è stato ritrovato poche ore fa morto con segni di tortura sul corpo. I manifestanti comunque sarebbero entrati, avrebbero occupato il ministero delle politiche agricole. E mentre la lotta si allargherebbe apparentemente, i manifestanti sono sempre di più, diventa palese che ormai le ragioni della rivolta non sono più semplicemente circoscritte a tutta la storia dell'Ucraina in Unione Europea o non in Unione Europea, ma è più una manifestazione generica delle persone in Ucraina che lamentano l'assenza di basilari diritti come quello ad esempio di manifestare. Ah, peraltro, video come questo iniziano ad apparire sull'internet, ovvero quello che vedete è un manifestante nudo che viene preso in giro dalla polizia che lo ha catturato, lo hanno fatto spogliare in mezzo alla neve, gli mettono qualche cosa in mano, gli fanno delle foto, vi lascio il link intero in descrizione anche se non so quanto rimarrà lì perché un video su YouTube non è censurato, non so quanto rimarrà online, ma è giusto per ricordare che il mondo non è affatto bianco e nero e non è affatto buoni contro cattivi, è grigio, è grigissimo. Ma questo, gentaglio, è tutto quello che avevo da dirvi per oggi, grazie per aver guardato, grazie al nostro alfiere senza nome per oggi che diventa alfiere con uno strappo alla regola senza mostrare il suo viso, ma è giusto così, è molto, molto, molto giovane come si può vedere dal bel disegno che mi ha fatto e quello che mi ha scritto che non vi leggerò più il disegno mi hanno commosso, quindi ho pensato di farlo diventare alfiere e mostrargli quanto ho apprezzato il suo disegno mostrandolo a tutti voi. Quindi grazie mille, gentaglia, I love you long time, mi raccomando, se mi volete molto, molto, molto bene, nei link in descrizione trovate il modo per farmi vincere. I tweet, non mi ricordo nemmeno come si chiamano, Shorty Awards, agli Shorty Awards, quindi così, così domineremo il mondo, oppure no, però dimostreremo che niente, però perché no. Buon weekend, ci vediamo lunedì alle 18.